Cagnara e Muleta, domenica 29 alle 16 presentazione del libro Assalto al Monte Grappa di Lorenzo Capovilla Vabbè dai, beee Grazie a tutti. E' uno degli aspetti più drammatici e duri, anche perché poi si accompagna, lo dicevamo oggi, con una situazione anche di destrutturazione di quelli che sono i parecchi raccaduti sociali che fino ad oggi abbiamo conosciuto, quindi la famiglia, il fatto che le... Grazie a tutti. 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 ci trovava prima Alessandra appunto il forte come bene comune non soltanto perché l'ha acquistato il comune ma anche perché è un pezzo di storia della città, come tutta la storia, è una storia comune a tutti. Sì, in realtà è una storia, è un pezzo in cui la città, abbiamo visto soprattutto dai laboratori in cui si identifica, e proprio in questo è paesaggio perché è un pezzo di territorio in cui si identificano le persone che ci abitano. C'è una memoria storica che era quella della corte militare, c'è anche una memoria del territorio che era una memoria più agricola di quelle minori, di quelle che non saltano spesso fuori nei libri di scuola ed era appunto un paesaggio agricolo agrario particolare, lo stesso forte era stato trasformato anche in orti tra il 17 e il 19 per produrre cibo per portare poi al fronte durante la prima guerra e poi c'è insieme a questo che è uno dei componenti principali del nostro lavoro, ci sono delle aree che noi abbiamo chiamate naturali, in realtà si sono rinaturalizzate perché dopo l'intervento del forte, l'insediamento del forte, la natura ha ripreso, si è riappropriato dei suoi spazi e quindi quello che è emerso è soprattutto la volontà di trovare un equilibrio tra appunto quello che è l'intervento naturale con quello proprio dell'uomo. Quindi bisogna anche noi, quello che stiamo cercando di fare è quello di trovare una mediazione tra i due tipi di attività e comunque non vogliamo essere una, spesso ci identificano come il quarto in comodo perché ci sono diversi progetti, voi sapete due progetti di project financing e poi c'è Marco Polo, noi non vogliamo essere i concorrenti quarti, semplicemente siamo un gruppo di opinione, un gruppo di pressione, semmai il nostro ruolo è quello di dare e di farci portavoce di quello che abbiamo raccolto come stanze da parte della cittadinanza ma non siamo un quarto in comodo. Una sorta di lobby propositiva ma anche in questo senso una buona lobby insomma. a parlare era Gabriella Bondi che insomma così la ricordiamo e un'altra cosa che mi ha colpito anche di quello che mi serve appunto Gabriella è come, mi suona un po' come una metafora cioè il forte che è una cosa militare nasce per aggredire, per difendersi, insomma il solito militare non è che vanno a fare le missioni di pace, questa è una cosa che ci viene raccontata a noi ultimamente ed è bello come quando appunto i militari se ne sono andati e poi la natura si è riconquistata, non lo spazio, che è un po' quello che la città cerca poi anche di fare rispetto a un luogo che fino a qualche tempo fa era inaccessibile per la tutta la zona in natale. Certamente il, diciamo, la riconquista della città e non solo della città ma anche abbiamo animali, io cito sempre gli animali della colonna finina, no? Questi animali deliziosi, i gatti, che vengono protetti da un'ordinanza comunale anche regionale, i quali hanno un terrore terribile questi animali, animaletti. siccome hanno sentito parlare della filiera curta, hanno il terrore che venga proposto coniglio nel ristorante vicino e quindi questo è un po' per dire, no? Ci sono delle simpatiche possibilità anche di coesistenza perché qualcuno magari non vorrebbe questi animali. E tra l'altro ho osservato che è il bellissimo concerto che è stato fatto del giorno della resistenza, no? Della università della resistenza e i decibel molto forti venivano sparati non nella direzione degli animaletti, sono andato proprio a sentire perché sono degli alti che disturbano, i bassi invece si propagano a distanza e quindi, insomma, in qualche modo c'è stata una positiva situazione di convivenza. Dicevi che, appunto, non ricordo la domanda che vi hai fatto. No, no, beh, era semplicemente appunto un ragionamento sul passaggio dal, come dire, della fortificazione militare invece alla natura che si riprende, no? Ciò che gli è stato sottratto. Però bisogna dire una cosa, sottolineare che il lavoro che abbiamo fatto come gruppo di lavoro è stato anche progettare anche una funzionalità di tutti gli spazi senza consumo di suolo, cioè senza ulteriore, diciamo, costruzione, cose invece altre magari avevano fatte. Quindi abbiamo presentato al comune un lavoro che è vantaggioso perché non fa perdere tempo al progetto che verrà insediato perché se terranno conto di tutte le linee che noi abbiamo proposte, di tutte le misure, diciamo, appirate, di studi che sono stati fatti, non ci sarà perdi il tempo, quindi i progetti potrebbero essere realizzati in tempo molto per lì. Beh, allora, un'altra questione riguarda anche i prossimi appuntamenti. Insomma, voi, il capo laboratorio è partecipato, dove, come e quando si può partecipare, nel senso, visto che questi gruppi hanno anche bisogno di essere un po' allargati. Poi diventa difficile non gestire la democrazia, è così. Però, insomma, i prossimi appuntamenti che vi date, quali saranno? Innanzitutto sulla comunicazione, quindi questo è il primo ottimo, ottima occasione, anche se un po' stretta, nel senso che... fisicamente stretta, perché siamo in tre, sono una guardiola. Ecco, però, poi magari possiamo ritornare per, insomma, per farci conoscere, per far conoscere appunto il forte, come lo vorremmo, cioè come la cittadinanza, pensata ovviamente nei tavoli, lo vorrebbe, quindi come non si dovrebbe, in qualche modo, privatizzare, se c'è privatizzazione, l'altra iniziativa che stiamo portando avanti è quella che ha preso forma qualche settimana fa con la raccolta firme, forse qualcuno di voi ha passato dal mercato o da Piatta Ferretto quando stavamo raccogliendo le firme, per promuovere un procedimento di istruttoria partecipata per quel che riguarda il piano di recupero che il Comune ha detto di voler fare, il piano di recupero di iniziativa pubblica su Forte Marghera, quando appunto qualche mese fa ha fatto retromarcia rispetto ad altre precedenti ipotesi. L'istruttoria partecipata è prevista dal nuovissimo, da poco approvato, regolamento del Comune di Venezia e quindi è tra l'altro uno dei procedimenti che sono stati portati all'interno di questo regolamento con la collaborazione con il gruppo di Io Decido e quindi diciamo questo percorso che deve essere supportato su qualsiasi tipo di decisione dalla raccolta di almeno 2.000 firme dei cittadini o dei residenti o di chi lavora all'interno del Comune. Noi abbiamo raccolto nel giro di tre settimane 4.600 firme e diciamo è la prima volta che si prova a realizzare questo istituto di delegazione partecipata all'interno del nostro Comune e quindi noi seguiremo con costanza e con attenzione questo aspetto. Ultima questione, allora ci rispondiamo di andare a questo punto per salutarci. Insomma sul Comune si è ricordato il pericolo in pregilo, l'inconvenza dal privato, poi il Comune rimane del Comune, appunto di maestro, per il gioco di parole, il forte rimane del Comune, quindi la domanda è anche che tipo di rapporto poi si è creato, all'inizio credo un po' di attrito o forse oggi un po' meno, con la politica veneziana, cioè vi siete sentiti ascoltati, vi siete sentiti capiti oppure c'è stato un po' un momento di dramma? Siamo stati sicuramente ascoltati alla fine, siamo stati ascoltati, siamo anche stati apprezzati perché anche in settima commissione presso il Consiglio Comunale, quando abbiamo sposto i risultati delle mie guida che avevano stati convocati, abbiamo risposto dei pareri favorevoli e soprattutto sulla qualità del lavoro che avevamo prodotto come gruppo. All'interno del gruppo ci sono molte componenti, ci sono appunto semplici, siamo tutti semplici cittadini, alcuni di noi hanno anche delle specializzazioni professionali che poi hanno anche messo al servizio, soprattutto interpretando sempre però le volontà. Siamo stati contattati anche dall'assessore Micelli e adesso ci stiamo un po' guardando intorno, stiamo anche cercando di rispondere ad alcune delle sollecitazioni che ci sono state fatte, quindi siamo in lavoro, sempre progressivi perché anche il tipo di intervento che noi intenderemo come gruppo proporre è proprio quello di un intervento di lavori progressivi da compiere nel tempo e non la classica bacchetta magica con una carrettata di soldi che risolve all'istante. Anche perché credo che non sia tempo né di carrettate di soldi e poi i lavori qui sono molti per cui insomma ci sarà molto tempo anche per dover rifare questi lavori. Beh io ringrazio a questo punto il gruppo di lavoro sul Forte Marghera, ringrazio gli ospiti di ricordo, Gabriella Bondi, Alessandra Marin e Giorgio Bassanese, come dire, continuate così, ci fa piacere, grazie. Da vent'anni, Siget Festival. Sì, ripartiamo. Blasibo, Teatro degli Orrori, Korn, The Stone Moses, DXX, Paolo Ruttini, Roy Paci Aretuska, I Ministri, The Vassiz, Tudor Cinema Club, The Pops e tantissimi altri. Un'isola sul Danubbio nel cuore di Budapest. Dal 6 al 13 agosto 2012. Ticchette viaggi su sigetfestival.it, Nel cuore di Budapest. Avvici! Giornate resistenti 2012. Dal 27 aprile al 1 maggio.